Gli studenti della Valtiberina si apprestano ad un incontro importante, quello con Gerardo Colombo, ex magistrato e attuale presidente della Garzanti Editrice, nonché premio Cultura della Pace 2008. Gerardo Colombo è noto per aver condotto o preso parte ad inchieste storiche, quali quella della scoperta delle logge P2 e di Mani Pulite. Il suo impegno per la giustizia è continuato anche dopo il 2007, quando ha lasciato la magistratura, scegliendo la scrittura come mezzo per continuare a diffondere la cultura della giustizia. La conferenza, che si terrà mercoledì 16 marzo alle 10.30, avrà luogo nell'aulamagna del Centro Sportivo FIT di Caprese Michelangelo e verterà sul tema Legalità e diritti dell'uomo. L'iniziativa si inserisce all'interno dell'offerta formativa dell'Istituto Alberghiero Buonarroti di Caprese Michelangelo, che quest'anno prevede uno specifico progetto sulla legalità e il rispetto dei diritti umani. Un progetto che mette al centro l'uomo e la crescita integrale della persona, un percorso che possa aiutare i ragazzi ad acquisire la consapevolezza del proprio ruolo di cittadino attivo nella società. L'evento è stato promosso in collaborazione con l'Associazione Cultura della Pace, che ha espresso grande soddisfazione nel vedere l'impegno di una scuola in favore della cultura della legalità, così importante nella costruzione di una società più solidale e non violenta. Anche l'amministrazione comunale di Caprese Michelangelo non poteva che esprimere il proprio compiacimento nell'ospitare nel proprio comune una figura di così alto livello morale e culturale, quale Gerardo Colombo, uomo di Stato, che da sempre si è contraddistinto per il servizio e la serietà. Il forte legame che esiste tra il comune e la scuola, ha detto il sindaco di Caprese Michelangelo, Filippo Betti, è ancora una volta sottolineato e rafforzato da questa iniziativa che rende orgogliosi tutti noi.